I numeri sono impietosi e fotografano una situazione molto preoccupante. Nella piana di Gioia Tauro nel 2018 sono andati in fumo centinaia e centinaia di posti di lavoro. Una crisi profonda e prolungata che non risparmia nessun settore. E se anche il porto di Gioia Tauro, che dovrebbe essere il propellente per l'economia di tutto il territorio, annaspa in una crisi profonda, si capisce che la strada verso la ripresa è ancora tutta in salita. La situazione del lavoro nella piana è drammatica. Purtroppo anche quest'anno la piana ha pagato uno dei prezzi più grandi. Si continuano a perdere posti di lavoro. Nel settore che io seguo, quello del commercio, dei servizi, solo quest'anno ci sono stati ben oltre 400 posti di lavoro che sono andati in fumo. Se dal commercio ci si sposta in altri settori economici, la musica non cambia. In un tessuto sociale abbastanza debole, in una situazione in cui anche le grandi opere che erano destinate a questo territorio stentano a partire, come per esempio il nuovo ospedale della Piana, che deve sorgere a palmi, o come tantissime altre opere che avrebbero potuto dare una bocca d'ossigeno in questo momento storico. Per invertire la rotta e permettere a questo lembo di territorio calabrese di uscire dalla crisi, servirebbe una seria politica di investimenti. Serve intanto un'unione politica e sociale che riesca a creare le condizioni affinché si possa dare soluzioni alternative e rivendicare maggiori investimenti per quest'area che rischia di sprofondare. Francesca Altomonte per la Cineus 24